un'altra città un parlo con noi che invece che parli macchini di passiamo a fare che non è difficile ora per andare a vedere andresa online e quindi mi sono due voti per se c'è un uomo pepe o san nino adesso ne ho avuto il fatto della cobaltina la delle precette il primo colpo ma si ma perché la prima colpa è molto più facile si perché così c'è perché devi spawnare ancora le cose quindi hai più tempo cos'è per san nino signore ma in che senso tu mi potresti passare la macchina cioè la macchina che c'hai te la posso fare anche io e come si fa? è un glitch beppe ma tu quanti scritti hai? si non mi sa dopo lo facciamo ma hai fatto il video nevica gennaio di 17 tariamo ma che canno sono io vecchio hai fatto qualche video eh c'è nessun video ma però non ti chiami così no ma hai fatto nessun video eh qua non ci sono con zero video la mette chiami comunque in qualche altro modo chiamo Giuseppe San nino G grande e S grande è staccato si G grande e solo S grande aspetta che chi c'è per cui io va Giuseppe San nino si con due anni con due anni San nino si a se a n n i n o no c'è Giuseppe San nino che è un pelato un pelato ma tipo mi dice in onda mi dice a destra Giuseppe San nino un video mi dice che è una della Sampdoria è il pelato il pelato ma a me me la fate vendere 5 di cose di nuovo 5 macchine ma adesso ieri non potevo vendere le macchine perché avevo ok duplicare veicoli personali e beppe non ci sei beppe condividi la tua stream e come cazzo faccio ti vai sul tuo telefono vai sul tuo account eh io ti apro l'ho fatto io guardo io ti apro eh condividi condividi e come si fa e non chiedi a beppe vai sul telefono intanto ci sei sul telefono ah ci stiamo sul telefono si vai sul tuo account youtube e dici come si chiama che fa il primo Giuseppe San nino vecchio no il consiglio oh vecchio ci sono Giuseppe San nino nessuno iscritto dal vivo in ora guarda ti mando lo screenshot allora aspetta fai condividi il video come fai con i video normali eh come cazzo ci fa non l'ho mai fatto eh clicchi clicchi sotto al video c'è tipo una frecetta verso l'est verso l'est e te vedi clicchi sì sì ma che adesso mi faccio i milioni oh ho preso 62 macchie eccolo ci deve posarmi a mille guarda hai trovato no? sì ho trovato ma che adesso mi faccio i milioni oh ho preso 62 macchie eccolo come faccio tagliare con la barra lì a destra tu sento l'eco a lui vedo un giorno io ho portato il vacanio no 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 cosa stai con la barra la barra la barra con rosa il progetto aderallo nel video di ritardo io non vedo cosa stai facendo cambio cambio stile mi sei bloccata si è bloccata la stream si ma non mi sa che problema mio è che ripartire in pratica è ripartito un po' tutto anche il cervello di italiano oh provare a vedere se mi vende la sesta macchina basta quindi ce l'hai presa la legge la legge la legge perchè metto appena fai la cosa dimmelo che io adesso non mi dico la banca vai ora vado a prenderlo vendo l'ultima vado a prenderlo adesso mi faccio la banca ma non me ne fa vendere un sacco di nuova è 5 che ne fa vendere no 6 6 6 6 ho venuto la sesta 6 a meno poi di quella me ne fa vendere poi anche se al giorno son buone no no oh d'anima te l'hai fatto di nuovo il glice il glice oggi invece c'è 62 macchine gli lg gli lg gli lg minchia se vuole tremenda poi lo rifaccio io avrò un'ottantina di lg ma io ho preso tutto l'ufficio i tre piani due garage io due garage dice anch'io noi sono solo due io e te ne abbiamo tipo 6 di garage ma come si fa? e compri capito io però io devo comprare quello dell'ufficio devo comprare quello dell'ufficio quello dell'ufficio perchè il massimo di casa è due mi dice no no impossibile io non 3 di 4 no di garage no ma di quello dell'ufficio la mia 4 milioni per adesso e mi pare che ti puzza il culo un punto per il mondo che c'è un punto i buccia un po' la non parola un po' la nostra macchina di merda entra il garage volano un ma ma che cazzo è buccia hai fatto girato? due 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 ho preso no ero ero rotto uh ah sì però due di quelli grandi ce ne sono grandi due ci sono quelli con le nocciole vai lui ha preso la sultana un attimo che si modifica la banshee un attimo dai vietta aspettami per favore dai vietta dai vietta dai vietta dai vietta dai vietta intanto facciamo modificare quella lì che cosa insomma io bianco io bianco io bianco quanto cosa modifica sulla cosa sulla è milioni in questa qua c'è 265mila ma eh quanto c'è di ottenere io voglio la cosa voglio la voglio la voglio la styrus di così di usare e ottenerli ma usali tanto cazzo te ne fai no dopo neanche un altro glitch in quasi ogni settimana ma saranno più difficili ma va la cosa dove c'è di voltare davanti a difficoltà ma che ho fatto una modifica ma che ho fatto una modifica eh sì la macchina al giorno è brutta ah ma tu vorrei che è interni interni cazzo me ne frega luci metto dopo divrea ecco divrea si anche piano ecco da chi guarda la stream da chi guarda la stream ma tutto due secondi sto facendo una cosa in due secondi dimmi a me come ti chiedi ma rivestimenti fari ma rivestimenti fari giuseppe sannini giuseppe sannini sannini non il senno come dice l'allenatore vuole sconto del meccanico che foto ha non c'è una foto non c'è una foto per arte questo su un punto su un punto si si dipende manierà intanto un attimo non c'è un'altra non 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 dici c sto scherzando su scherzando non 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 dai aiutare my la storia con un bucciolo mi regalcio mi regalate un attività che scemo ti sei connesso lui adesso il posto del senso guardano non c'è perché non vai più tardi a parte non mi carica neanche mi dice la qualità della connessione internet è veramente sufficiente per ciò a smettere il gioco eh ci sarà la mia amma che guarda della discuridità mannaggia tua mamma no seguendo la italiana mi da un milione cosa? ti vuoi vendere 100 lui l'hai visto? eh non me la carica la livrea cioè non è ancora messa qua eccola nooo quanto è bella beppe metti ce la beppe metticela subito non lo stai spettando spacca ti ha spaccato un casino beppe nooo nooo è sportiva super macchia tu è super super è super buon la targa la mettonera su già giallo signero verniciatura mi sono fatto o come si fa a comprare un garage ma io posso farlo anche in un garage di due posti sì sì ma non ti fai dei colori facciam prima c'è per cui mi chiamava aiutare il ritardo anzi non è un'idea per la pepe che c'è il cli che c'è il cli come faccio a fare la live e tecnici di dubbio sono come faccio da lei è finita a trasmissione aspetta ma un ma puoi prendere quante le vuole ho capito oh ma perchè la wind mi chiama sempre oh ptana